Questo è un incontro speciale, l'ultimo di una serie di incontri che hanno animato la nostra presenza all'Expo. Come il primo, anche quest'ultimo, si tiene fuori dall'Expo. È uno degli ultimi eventi che segnano la nostra presenza come intesa a San Paolo in questa grande manifestazione che oggi, possiamo dire, i numeri ce lo dicono, essere stato un grande successo. Uno degli ultimi appuntamenti di una nostra presenza, come sapete, nata con la decisione di sponsorizzare l'evento Expo come banca anche per fornire tutti i servizi finanziari di cui una grande manifestazione come questa aveva bisogno e poi di interpretare una nostra presenza con un padiglione che abbiamo animato di eventi moltissimi dedicati alle imprese. Ne abbiamo ospitate ben 400, soprattutto del Made in Italy e della filiera agroalimentare. È stata forse l'unica piattaforma messa a disposizione del mondo delle imprese italiane dentro l'Expo che hanno potuto così entrare in contatto con il mondo dell'Expo, incontrare le forze e anche le strutture internazionali che sono presenti all'Expo, presentare i loro prodotti, incontrare i loro clienti, fare comunicazione utilizzando lo spazio di Intesa San Paolo. Ma poi insieme a questo abbiamo cercato anche di rappresentare un po' l'identità italiana che è fatta naturalmente delle cose che sono sotto i nostri occhi sempre ma che non sempre possiamo vedere tutte insieme e soprattutto chi non è italiano magari non conosce. Quindi abbiamo raccontato il paesaggio italiano, abbiamo raccontato la musica italiana, l'arte italiana e abbiamo cercato di costruire in questo dei percorsi anche importanti e coinvolgenti ospitando queste stesse forze in performance, manifestazioni dentro il nostro spazio che hanno attirato tante persone che noi abbiamo poi distribuito con i mezzi della tecnologia fuori da questo stesso spazio. Ho finito questa breve presentazione perché volevo appunto riportarvi alle ragioni di questo ciclo di letture che ci è stato proposto da Giulia Cogoli e alla quale lascio la parola per raccontare oggi la presenza di un grandissimo protagonista come il professor Diamond che ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi stasera. A te Giulia. Buonasera, grazie per essere a questa ultima ottava conferenza che chiude il ciclo Sharing the World grazie a Vittorio Meloni che mi ha chiesto di progettare questo ciclo di conferenze e a tutte le persone che collaborano con lui con cui ho potuto realizzarlo. L'idea è stata quella di approfondire il tema della condivisione, lo sharing. Abbiamo scelto questo tema per due motivi. Il primo è per l'urgenza, la necessità, l'attualità di un tema che è oggigiorno imprescindibile sia in ambito scientifico e culturale sia in ambito di attualità. L'attualità ogni giorno ci parla della condivisione, della necessità della condivisione. Ma il secondo motivo per cui abbiamo scelto questo tema è stato proprio quello di Expo. È un ciclo di conferenze che nasce per Expo e quindi possiamo dire che in qualche modo lo sharing è la condivisione, è il tema sotto traccia di Expo, è il senso ultimo di fare un'esposizione universale. Abbiamo invitato otto grandi pensatori intellettuali italiani e stranieri a cui abbiamo chiesto appunto che cos'è per loro la condivisione. Lo abbiamo fatto con Giacomo Rizzolato che ce ne ha parlato proprio qui da un punto di vista neuroscientifico. L'abbiamo fatto parlando di paesaggio con Mauro Agnoletti, con Andrea Moro parlando di linguistica, con Derek Decker-Cove, sociologo della realtà virtuale, con Luigi Zoia parlando a livello di inconscio collettivo, con Laura Boella a livello filosofico parlando di empatia e con Ilvo Diamanti da un punto di vista di scienza della politica e di sociologia. Oggi chiudiamo con il grande onore di avere con noi il professor Diamond. Non ha bisogno di presentazioni ma voglio solo ricordare il libro per cui è universalmente noto. Il titolo in italiano è Armi, Acciaio e Malattie, ha vinto anche il premio Pulitz, era un libro straordinario che tutti hanno letto in tutto il mondo. Lui insegna geografia alla UCLA e alla California e noi siamo immensamente grati a lui di essere venuto per la conferenza. Ricchi e poveri possono condividere pacificamente un mondo globalizzato? Non possono. Grazie a tutti. Per me è un piacere tornare in Italia, ascoltare la vostra bellissima lingua italiana e tornare a Milano. Trascorro adesso un mese come ospite presso l'Università Luis a Roma, dove insegno una serie di lezioni sul tema di crisi nazionali, argomento del mio prossimo libro. e così i bravi studenti dell'Università Luis funzionano come le cavie sperimentali per provare i miei pensieri e se comprendo io o no gli argomenti che presentano agli studenti. ma un mese a Roma mi ha dato anche la possibilità di fare delle escursioni ornithologiche e conoscere gli uccelli italiani con l'aiuto degli amici italiani che lavorano presso WWF. ho anche avuto l'occasione di conoscere le vostre trattorie di prima qualità ho avuto l'opportunità di conoscere per la prima volta nella vita l'interiore dei vostri teatri dell'opera e ascolterò delle opere dei vostri bravi composatori Verdi e Donazzetti per esempio Domani sogno di mia vita presso il teatro della Scala qui a Milano. ma soprattutto per me è un piacere conoscere voi italiani e ascoltare e parlarle la vostra lingua. Il mio tema stasera può sembrare un tema cupo ma non lo è. Il tema consiste dei problemi che minacciano il condividere del mondo tra paesi ricchi e poveri e problemi che minacciano la sopravvivenza della civiltà moderna o anche della specie umana. Naturalmente affronciamo anche i problemi meno serie. Oggi parlerò soltanto di due problemi che già oggi e già da molto tempo si sviluppano in maniera che se continuano in questa maniera avranno la capacità di distruggerci. Ma naturalmente affronciamo anche un sacco di altri problemi meno serie che potrebbero distruggersi e forse la faranno ma forse no. Per esempio adesso in Europa anche negli Stati Uniti c'è molta preoccupazione sull'argomento della religione fanatica ed intransigente. In Europa e negli Stati Uniti quando si parla alla religione fanatica noi pensiamo prima alla religione islamica ma devo dire che negli Stati Uniti noi abbiamo tanti cristiani fanatici ed intransigenti che noi provochiamo un gran sacco di problemi. e in Israele ci sono anche degli ebrei fanatici ed intransigenti. Forse le religioni provoceranno problemi seri per noi ma penso probabilmente no. C'è anche il rischio di una guerra nucleare se accade sarà un disastro ma forse accaderà e forse no. Rimandano due problemi che ci già minacciano. la sultazione non sostenibile di risorse naturali e la disuguaglianza tra e dentro paesi tra paesi ricchi e paesi poveri e tra popoli ricchi e popoli poveri dentro lo stesso paese. Come ho menzionato all'inizio c'è il rischio di sentire questo tema come un tema tetro, cupo e fosco. ecco tre parole che ho imparato recentemente nel mio dizionario italiano con quasi lo stesso significato. ma vi mostrerò che c'è speranza e che siamo in grado di risolvere questi problemi se vogliamo. La questione è vogliamo sì o no. Prima parliamo del problema della gestione delle risorse ambientali essenziali per la civiltà umana. Ci sono una mezza dozzina di tale risorse essenziali come suolo coltivabile, legna e altri prodotti forestali, pesci e biodiversità marittima, biodiversità terrestre, acqua potabile, energia e un clima idoneo ai nostri bisogni. Già comprendiamo come gestire quelle risorse in modo sostenibile se scegliamo a farlo. Un esempio, le risorse etiche. Voi italiani mangiate molto pesce e durante questo mese io ho aiutato a voi italiani a mangiare i vostri bravi pesce. E così fanno altri europei. Alcune specie di pesce vengono allevate e chiunque voglia pesce di allevamento deve pregare il proprietario dell'aquacultura. I pesci selvatici, invece, non sono di nessuna. Sono prodotti della natura stessa. I pescatori non devono pagare madre natura per i pesci che catturano. I pesci sono lì appunto per loro, così pensano i pescatori. Inoltre, poiché i pesci selvatici si riproduccano, finché riescono a farlo a una velocità superiore alla velocità a cui vengono pescati, la riserva etica spontanea si conserva e l'industria della pesca è quella che diciamo sostenibile. Esistono parecchie industrie di pesca nel mondo che sono sostenibili. Sappiamo come farlo. L'industria del salmone selvatico in Alaska è condotta in un modo sostenibile. L'industria del arringa del fiume Thames in Inghilterra anche è un'industria di pesca sostenibile. Ma sfortunatamente la maggioranza, la gran maggioranza delle industrie di pesca nel mondo sono condotte in un modo non sostenibile e come risultato queste industrie sono già in giro, stanno per declinare o le industrie hanno già crollato. Supponiamo che un extraterrestre dalla galassia Andromeda venga in visita in Europa. Presto scoprirà appunto che voi italiani e altri europei mangiano pesce. E l'extraterrestre scoprirà anche che voi italiani ed europei hanno dato vita a un'organizzazione chiamata Unione Europea che si occupa dei vostri interessi comuni. Supponiamo infine che grazie alla sua esperienza di vita nello spazio l'extraterrestre conosca i principi della gestione ecosostenibile delle risorse naturali. Si aspetterà dunque, l'extraterrestre aspetterà, che le politiche etiche europee tenderanno a garantire la sostenibilità delle risorse in modo che voi italiani ed europei abbiano sempre abbastanza pesce da mangiare e che il prezzo del pesce in Italia rimanga costante o cale. Voi invece sapete che negli ultimi decenni il prezzo del pescato in Europa è aumentato moltissimo in quanto le riserve naturali di pesce sono state deparate al limite dell'esaurimento. Una volta, per esempio, il merluzzo era un pesce sovrabbondante e poco costoso. Adesso, però, il numero dei merluzzi è drammaticamente diminuito e il prezzo è aumentato. Questo perché l'Unione Europea non ha una politica di gestione sostenibile delle risorse etiche. Al contrario, l'Unione spreca soldi per sovvenzionare una flotta pescoreccia europea troppo numerosa che pesca troppo pesce, che a sua volta fa aumentare il prezzo del pescato e chi ne fa le spese sono voi cittadini europei. Ma perché l'Unione Europea ha fatto scelte così autodistruttive sul piano delle politiche etiche? Un esempio specifico in questo senso riguarda il vostro caro tono rosso mediterraneo, o pinna blu del mediterraneo, un pesce che piace molto agli europei e che i giapponesi amano utilizzare per il sushi. Per questo motivo il tono rosso del mediterraneo è il pesce più pregiato e del più grande valore del mondo. Poco tempo fa un unico esemplare di questa specie è stato venduto sul mercato del sushi giapponese per 1.300.000 euro, un pesce. Qualsiasi esemplare, naturalmente era un pesce grande, ma qualsiasi esemplare di qualità media supera gli 11.000 euro. Di fronte a un pesce di valore simile all'ingeno extraterrestre dal Galassia Andromeda, penserà che l'Italia e gli altri paesi del Mediterraneo abbiano di sicuro regolamentato la pesca per evitare l'estensione. In realtà, invece, la pesca del vostro caro tono rosso è indiscriminata e gli esemplari sono in declino, tanto che se la tendenza attuale si manterrà in alterata, arriveremo all'eseramento entro i prossimi cinque anni. Per quale ragione voi italiani e gli altri paesi del Mediterraneo state allora commettendo questo suicidio? E non voglio dire che soltanto voi italiani commettete questo tipo di suicidio naturale, anche noi americani abbiamo molta esperienza in questa area. Gli esempi che ho fatto in generale, e quello del tono rosso del Mediterraneo in particolare, sono altrettanti esempi specifici del problema della gestione delle risorse naturali rinnovabili. Questi comprendono non solo le risorse ittiche, ma anche quelle forestali, agricole, idriche e altre. Tanto oggi come nel passato, ogni società umana è dipesa dalle fonti rinnovabili per soddisfare i propri bisogni essenziali, per coltivare e per procacciarsi cibo, lagnane, corte ed acqua. Oltre a garantirci questi beni, le risorse naturali, ci forniscono anche i cosiddetti servizi di ecosistema, non destinati al consumo. E sono proprio questi adorci alla fine, acqua pura anziché acqua sporca, aria pulita anziché aria inquinata e terreno fertile anziché terreno sterile. In un fiume sano l'acqua è purificata dalle piante e microorganismi equatici, nonché dalle foreste che crescono nei bacini lungo il suo corso. La natura ci regala, insomma, i servizi di ecosistema, di purificazione dell'acqua e dell'aria, nonché di fertilizzazione del suolo, servizi gratuiti. Prenderci cura delle risorse naturali da cui dipendiamo è, insomma, il nostro interesse egoista, diretto. L'esempio del tono rosso del Mediterraneo e delle risorse etiche europee In generale dimostra, però, che spesso facciamo fatica a gestire in maniera sostenibile le nostre risorse. Per colpa dello sfruttamento indiscriminato, le risorse etiche, le risorse forestali, le terre fertile, l'acqua potabile e altre risorse naturali, rinnovabili, stanno diminuendo in tutto il mondo. Ed è già successo in passato che, a causa della cattiva gestione delle risorse naturali da cui dipendevano, delle città si estinguessero. Alcune erano addirittura fra le città più potente e avanzate delle rispettive aree del mondo, come l'impero Khmer in Asia sudorientale e la civiltà dei Maya in Messico e Guatemala. Spesso si pensa che i problemi dello sfruttamento indiscriminato delle foreste, delle riserve etiche e di altre risorse naturali siano in gran parte collegati ai fenomeni demografici. La popolazione mondale è in aumento. Più gente significa più consumo di pesce, legname, acqua e più sfruttamento del suolo. E così molti americani e europei finiscono per dire che i problemi non dipendono da loro, da noi, ma dagli alti tassi di crescita demografica dei paesi poveri, africani, asiatici e latinoamericani. Nel paese africano Rwanda, per esempio, nazione poverissima, le famiglie sono spesso di otto figli. La popolazione locale quindi sta crescendo. Voi italiani invece fate così pochi figli che se non fosse per gli immigrati la vostra popolazione sarebbe in callo. E dunque possiamo dire che i problemi di gestione delle risorse sono soprattutto responsabilità dei paesi poveri con alti tassi di crescita demografica e non dei nostri paesi ricchi con tassi di crescita demografica bassi o negativi. La risposta è assolutamente no. La spiegazione è che l'entità della popolazione da solo non basta a determinare i livelli di consumo delle risorse. Invece questo consumo delle risorse sono prodotto di due fattori. La popolazione di un paese moltiplicata per il consumo medio nazionale pro capite delle risorse come gli alberi, il petrolio, metalli, eccetera. Questo tasso di consumo in Italia, negli Stati Uniti e in altri paesi ricchi è in media 32 volte superiore al corrispondente tasso di consumo medio nazionale pro capite nei paesi poveri. Il pericolo non viene dunque dalla crescita demografica di quei 10 milioni di rwandesi e quel miliardo di africani ma dai consumi di noi 300 milioni di americani e di voi 60 milioni di italiani e di voi 800 milioni di europei poiché l'italiano medio consuma 32 volte più risorse dell'africano medio. 60 milioni di italiani totalizzano da soli il doppio dei consumi di un miliardo di africani. E se domani voi avete dimenticato tutto l'altro che io ho detto stasera, per piacere, soltanto ricordate questo numero 32, il rapporto tra consumo medio nel primo mondo e consumo medio pro capite nel terzo mondo. ecco uno dei due problemi che minacciano la civiltà e la possibilità di condividere il mondo. L'altro dei problemi principali che applicano il mondo è la disuguaglianza sia all'interno delle nazioni sia fra le nazioni. Per quanto riguarda la disuguaglianza fra le nazioni, nel mondo esistono grandi differenze di tenore di vita e di livello di ricchezza. La ricchezza nazionale può essere calcolata in termini di reddito medio pro capite a parità di potere d'acquisto oppure di prodotto nazionale lordo pro capite. Qualunque metodo si usi, il paese più ricco del mondo, cioè la Norvegia, resta 400 volte più ricco dei paesi più poveri, cioè il Niger, il Burundi, Rwanda, Malawi. L'Italia è a sua volta oltre 100 volte più ricca di questi paesi poveri, africani, latinoamericani e asiatici. Ma quali conseguenze pratiche hanno queste differenze di ricchezza a livello nazionale? In molti paesi, per esempio, la maggioranza dei cicciadini non ha accesso a cose che in Italia e negli Stati Uniti consideriamo necessarie. Parlo di quantità di cibo sufficienti, di acqua potabile, di istruzione alimentare e di assistenza sanitaria e dentistica. Inoltre, non può permettersi nel terzo mondo né accedere a cose che noi stessi in Europa e negli Stati Uniti consideriamo lo sì più che necessità, ma di cui non vorremmo mai privarci, per esempio, il cinema e la televisione. In passato, nei paesi ricchi, la gente magari pensava tra sé e ogni tanto diceva, a voce alta e in modo aperto, sì, tutto questo è molto triste per chi abita nei quei paesi poveri, ma la povertà è in parte o del tutto responsabilità loro, perché loro sono popoli pigri e privi dell'etica del lavoro europea o giudaico-cristiana. E comunque, che sia colpo loro o no, la loro povertà è un problema che non ci riguarda e non ci tocca. Nel punto di vista molto esteso, soprattutto nel passato, ma anche oggi. Nel mondo moderno e globalizzato, invece, la povertà non è più solo un problema degli altri là fuori, è diventato anche un problema nostro. La povertà altrui ci tocca e ci riguarda, anche nei paesi remoti e poveri come l'Afghanistan e la Somalia e la Siria. Oggi la gente ha modo di sapere che cosa si perde. Dispone di telefoni cellulari e di altre fonti di informazione. Vede e sa che gli europei e gli americani vivono molto meglio e hanno molto più opportunità di quelle disponibili a casa loro. E questo provoca invidia, rabbia e senso di impotenza. Ma in un mondo condiviso, in un mondo globalizzato, l'invidia e la rabbia e l'impotenza trovano molti canali di condivisione concia ed inconscia. A livello inconscio e senza certo volerlo, la gente si amala, soprattutto nei paesi poveri. Con la globalizzazione, i cittadini dei paesi ricchi viaggiano in paesi poveri e spesso tornano indietro portando con sé malattie. Anche molti cittadini dei paesi poveri riescono poi ad arrivare in paesi ricchi e con la globalizzazione le malattie dei poveri si diffondono rapidamente anche nelle nazioni benestanti. L'esempio più conosciuto è naturalmente l'AIDS, sviluppatosi in Africa e ormai diffuso in tutto il mondo. Altri esempi comprendono l'influenza suina, il virus di Ebola e Cicungunya appena arrivato in Italia, la febbre Dengue, il colera e la malaria. Il contagio da parte dei cittadini arrabbiati dei paesi poveri non è certo intenzionale. Queste malattie trasmissibili sono soltanto un risultato inconscio della mancanza di accesso a cori mediche e della loro povertà. Un elemento invece intenzionale, ma non per questo malevolo, è l'emigrazione dai paesi poveri verso quelli ricchi. I governi di molte nazioni poveri cercano di migliorare la vita dei loro cittadini, ma i cittadini sanno che occorrono molti anni prima che gli sforzi diano risultati concreti quando mai arrivano. E la gente povera non ha voglia di aspettare tanto. Ciò che vuole per sé e per i propri figli è vivere al sicuro e in salute e godere di buone opportunità adesso. E perciò i flussi migratori che avete visto voi negli ultimi mesi in Europa. L'immigrazione è qualcosa che le popolazioni dei paesi poveri attuano in maniera consapevole e intenzionale, non come il contagio, ma non è un mezzo per farci del male. Il desiderio è soltanto di aiutare se stessi. Ma gli immigrati clandestini portano con sé sia benefici sia problemi, quanto questo non si può negare. E negli Stati Uniti, in Italia, in Australia e in altri paesi ricchi, l'immigrazione clandestina è diventata una questione assai controversa e bruciante. Ci sono poi le azioni generate da invidia, rabbia e impotenza e compiute in modo intenzionale per danneggiarci. Una di queste è sposare la causa del terrorismo, diventando terroristi o sostenendo terroristi. I terroristi lanciano aerei contro i grattacieli e piazzano bombe nelle stazioni ferroviarie, rapiscono e uccidono turisti viaggatori, dirottano navi. Tutte queste cose, malattie, immigrazione e terrorismo, sono il risultato diretto della disuguaglianza fra le nazioni in un mondo condiviso. Epidemie e immigrazione sono fenomeni di fatto inarrestabili. Firmare il terrorismo è difficile, molto costoso, forse impossibile. Finché le differenze sul piano della ricchezza nazionale non diminuiranno, la gente continuerà ad ammalarsi, ad emigrare e adarsi al terrorismo o a sostenere il terrorismo. Considero quindi che la disuguaglianza fra e all'interno delle nazioni è l'altro grande problema mondiale. Questo è lo sfruttamento non sostenibile delle risorse. E se non riusciremo a contenere questo problema, da qui a 30 anni non potremo aspettarci pace e prosperità, non solo in America e in Italia, ma in tutto il mondo. Un dato di fatto, questo che ha già modificato gli obiettivi degli aiuti stranieri e dei programmi per la riduzione della disuguaglianza sociale in Italia e negli Stati Uniti. Un tempo nel passato, infatti, l'aiuto ai paesi poveri era considerato alla stregua di nobili atti di generosità e di altruismo da parte di nazioni e persone ricche. Oggi, invece, non si tratta più di generosità, ma di una forma di autoaiuto, di aiuto egoista, attuata da paesi e individui che vogliono salvaguardare la propria ricchezza e il proprio stato di pace, perché hanno riconosciuto che non siamo in grado di salvaguardare la propria ricchezza e stato di pace senza ricchezza e stato di pace in tutto il mondo. Così, in breve, all'inizio ho detto che sembrano temi cupi e fosco e buio, senza speranza. No, c'è speranza. Tutti i problemi che ho discusso sono problemi che soltanto noi, esseri umani, provochiamo. Non sono problemi provocati da un asteroide che si precipita inarrestabile verso noi. Noi, noi provochiamo i problemi, dunque noi siamo in grado di smettere a provocarli e di lavorare, di cominciare a risolvere questi problemi. Non dobbiamo aspettare nuove tecnologie, non è necessario. Quello che ci manca è invece la voglia politica. Siamo in grado di risolvere tutti questi problemi con la tecnologia oggetta. Manca la voglia politica. È vero che raggiungere un accordo politico mondiale tra tutti e 226 paesi mondiali del mondo sarà difficile. Ma quella mira difficile non sarà necessaria. Basterà soltanto un accordo multilaterale tra i pochi paesi di più gran consumo. Questa è una mira ben raggiungibile. E ci sono motivi presenti, motivi per credere nella probabilità che questa mira sarà raggiungibile nel futuro ben vicino. Un esempio, nel mio paese, negli Stati Uniti, cinque anni fa la maggioranza dei cittadini americani non credevano nel fatto del riscaldamento globale e il cambiamento climatico globale. Ma nel giro di parecchi anni, con mia gran sorpresa, adesso la maggioranza degli americani, anche molti, forse una maggioranza dei repubblicani accettano la realtà del cambiamento climatico globale e accettano la responsabilità degli atti di noi esseri umani che provochiamo questo cambiamento climatico. Non è un fatto naturale, ma provochiamo noi. Ma noi americani non abbiamo fatto molto per ridurre il consumo di carbone perché abbiamo sempre detto che la Cina consume tanto carbone e perché dobbiamo noi americani ridurre il nostro consumo di carbone quando la Cina non fa niente, non c'è speranza. Ma due settimane prima della mia partenza dagli Stati Uniti per l'Italia, la Cina ha annunciato, con gran sorpresa a me e a molti, la Cina ha annunciato che nel giro dei prossimi sette anni la Cina ha adesso la mira di ridurre il consumo di carbone in modo su gran scala perché non ha a che fare con la nobiltà con un sacrificio agli altri da parte dei cinesi e una politica egoista per il buono perché i cinesi soffrono dell'aria nelle città cinesi, i cinesi soffrono dell'aria più inquinata del mondo, la durata della vita di un poliziotto di traffico sulle strade di Peking a prossima 40 anni perché muoiono di malattie dei pomoni e perciò i cinesi per motivi egoisti si sono adesso risolti a ridurre il loro consumo di carbone e questo forse provocerà anche i miei concittadini a ridurre il nostro consumo di carbone. Ma gli USA e la Cina sono soltanto due tra 226 paesi del mondo ma la Cina e gli USA insieme consumano il 40% di tutto il carbone e producono il 40% di tutti i gas, l'anidride e il carbonico nel mondo. Due paesi, 40%. Se altri due paesi o entità se l'Unione Europea se Giappone e India ecco abbiamo soltanto cinque paesi o entità fanno come la Cina e spero gli Stati Uniti avremo raggiunto 60% del consumo di carbone in tutto il mondo con soltanto cinque paesi e se fanno così questi cinque paesi loro, noi saremo in grado di fare pressione su tutti gli altri paesi del mondo di seguire il nostro esempio. Perciò c'è speranza. Sovente i giornalisti mi chiedono Jared, sei pessimista o sei ottimista? E io rispondo sempre sono ottimista cauto vuol dire che stimola la probabilità di un buon esito per la nostra civiltà ad almeno 51%. Spero che sarà così. Ancora molte grazie per questo invito di tornare a Milano di provare teatro dell'opera di ascoltare la vostra bellissima lingua e di avere questa opportunità di conoscere non soltanto gli eccelli italiani ma anche voi italiani. Molte grazie. Grazie.